Allora, buongiorno. L'obiettivo della lezione di oggi è quello di vedere assieme come funziona JUnit. JUnit che cos'è? È l'ambiente di test che viene utilizzato in generale quando si sviluppa codice Java per effettuare quelli che si chiamano i test di unità, ovvero test dei moduli minimi di un programma Java. Quindi normalmente andiamo a scrivere un test di unità per una classe o un insieme di classi per verificare il loro funzionamento. JUnit, oltre ad essere molto diffuso, è integrato all'interno di Eclipse e quindi sostanzialmente è un componente che fa parte dell'Eclipse IDE quindi non dobbiamo fare nulla di particolare per riuscire a utilizzarlo. L'unica cosa che dobbiamo fare è abilitare le librerie di JUnit che non sono parte delle librerie standard Java. JUnit non fa parte delle librerie Java standard ma è sviluppato indipendentemente da un'organizzazione che si chiama appunto JUnit.org e una volta incluse queste librerie possiamo scrivere il codice che ci consente di andare a sviluppare questi test e eseguirli. L'aspetto importante di JUnit è che i test vengono scritti in termini di codice quindi quello che succede è che io ho un po' di codice che è quello che di solito viene chiamato codice di produzione ovvero il codice che andrò a consegnare al mio committente a mettere per l'appunto in produzione quindi eseguirà tutte le funzionalità per cui è stato progettato e ho un altro insieme di codici che è pensato per eseguire il test test automatico ovvero io esattamente come lancio un programma Java qualunque posso lanciare i test JUnit in modo da verificare che il programma si comporti come mi aspetto e lo posso fare in automatico quindi una volta che ho lanciato i test questi vengono eseguiti e ho un risultato quindi il grosso vantaggio di JUnit è che mi permette di scrivere in maniera tutto sommato agevole dei test automatici che posso lanciare in ogni istante il vantaggio di avere dei test automatici è molteplici uno, scrivo i test e li eseguo in un tempo molto molto rapido posso andare a rieseguire i test ogni volta che faccio qualche modifica al mio programma quindi posso andare a verificare che le cose che ho toccato le linee che ho modificato o tutto quello che ho aggiunto al mio codice di produzione non abbia intaccato funzionalità che prima funzionavano correttamente quindi eseguire spesso i test automatici mi consente di avere quella che possiamo chiamare una rete di sicurezza per cui posso andare a fare delle modifiche e poi andare a verificare che effettivamente tutto funzioni correttamente come prima senza particolare, senza aver avuto impatto su che esiste ok? quindi l'obiettivo dei test automatici è questo a questo punto vediamo in pratica come possiamo andare a scrivere dei test JUnit per delle classi Java per fare questo andiamo ad aprire come al solito il nostro Eclipse e andiamo a prendere delle classi che abbiamo scritto la volta scorsa diciamo che possiamo andare a prendere le liste che tutto sommato è molto semplice la lista di interi ok? abbiamo la lista annidata e la lista di interi normalmente come si gestiscono i test all'interno di un progetto Java avete visto che normalmente quando creo il progetto mi viene creata questa cartella questa cartella corrisponde a una cartella di codice e al suo interno ci sono poi i package in maniera analoga quando voglio andare a scrivere dei test la prassi più comune è quella di andare a creare una cartella che si chiama test all'interno di un progetto quindi nel mio primo progetto con un clic destro vado a fare new e vado a scegliere source folder ovvero una cartella di file sorgente quindi creo questo source folder lo chiamo con molta fantasia test e quindi vedete che qui mi è comparso questa cartella di codice test ovviamente c'è un punto interrogativo sull'icona sostanzialmente perché il progetto in generale è su repository subversion quella cartella che io ho appena creato non è mai stata aggiunta quindi è un elemento nuovo quindi non si sa se è da ignorare se verrà aggiunto quindi sostanzialmente poi quando farò il commit quel punto interrogativo scomparirà all'interno della mia cartella test posso andare a creare come al solito delle cartelle scusate dei package al cui interno andrò a mettere le classi che andranno a eseguire i test quindi e cosa faccio? andrò a creare un package gli posso dare un nome che è analogo a quello del package che voglio andare a testare delle classi che stanno nel package in cui si trovano le classi che voglio testare quindi it polito inf l3 punto po punto list punto test quindi vado a creare questo package tra l'altro implicitamente se voi andate a vedere il file system questo vuol dire che ho creato una cartella it con una sottocartella polito con una sottocartella inf l3 eccetera 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 ok questa è l'organizzazione diciamo la convenzione che utilizza Java a noi interessa sapere che esiste un package che ha quel nome a questo punto vado a inserire in questo package le mie classi di test ok i test esattamente come qualunque cosa in Java sono organizzati per classi posso creare una classe vuota e poi aggiungere gli elementi oppure posso sfruttare Eclipse in modo che mi aggiunga dei test ok quindi faccio un clic destro new vedete che qua non c'è nulla perché perché in questo progetto non è ancora stata aggiunta la libreria di test ok nelle librerie del progetto che vi è stato dato come esercizio in laboratorio la settimana scorsa la libreria era già stata aggiunta ok in modo che poi abbiate il passaggio successivo di esecuzione di test facilitato questo progetto che avevamo creato assieme da zero il primo giorno di lezione non ha la libreria aggiunta quindi quello che devo andare a fare è aggiungere la libreria cosa faccio vado a selezionare il mio progetto faccio un clic destro e poi vado a operare su quello che si chiama il build path ok allora scusate ho scelto project explorer ma non è l'ideale vado a cliccare qui e a fare build path ho cambiato sostanzialmente la vista prima ero in quella che si chiamava project explorer adesso sono in quella che si chiama package explorer che è più adatta a java e mi consente di andare a fare una serie di operazioni quindi il build path è sostanzialmente l'insieme di libreria che vengono utilizzate per andare a compilare il codice java e poi ovviamente verranno utilizzate anche nell'esecuzione quello che voglio fare è posso fare tante operazioni quella che mi interessa è aggiungere una libreria quindi vado ad aggiungere le librerie mi compare questa finestra scelta in cui ho una serie di librerie standard la jr system library che è quella che in realtà già c'è se ne volessi aggiungere un'altra togliendo quella precedente lo posso fare junit e poi ho un po' di altre librerie a noi interessa parlare appunto junit vedete che è già messa lì perché comunque è qualcosa che io faccio molto spesso nell'attività di programmazione quindi junit ci sono diverse versioni di junit disponibili la 3 la 4 e la 5 ok le versioni di junit precedenti alla 3 e alla 3.7 sono sostanzialmente obsolete quindi non sono più presenti noi in questo corso per questo anno accademico utilizziamo junit 4 normalmente le 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 librerie sono compatibili all'indietro quindi io posso utilizzare dei test scritti per una versione precedente anche se utilizzo una libreria più nuova l'idea è che noi andiamo a aggiungere la libreria di junit 4 perché è quella a cui facciamo riferimento. Come aggiungo ad library? Adesso ve lo rifaccio, ok? Quindi abbiamo scelto g-unit 4 e io faccio finish. E vedete che mi ha aggiunto a libreria g-unit 4. Per aggiungere a libreria al vostro progetto, se non ce l'avete, quindi progetto, clic destro, build path e ad libraries. Questo è il percorso. Adesso a questo punto scegliete g-unit e dopo che avete scelto g-unit scegliete la versione 4. A questo punto, avendo la libreria g-unit, noi possiamo chiedere a Eclipse di aggiungere un nuovo g-unit test case. Quindi g-unit test case sostanzialmente è analogo alla creazione di una nuova classe. Vedete che mi permette di andare a scegliere il tipo, la versione. Io scelgo g-unit 4 perché quella è la libreria e vado ad aggiungere un test lista. Non aggiungo nient'altro, ok? Dopo lo aggiungiamo man mano. Allora, non avevo scelto il package, quindi test lista me lo sposto, scusatemi, qua sotto nel package giusto. Allora, è necessario utilizzare il package explorer per vedere la visualizzazione corretta. Per vedere il package explorer, se non ce l'avete mostrato come ce l'ho io, quello che potete fare è andare nel menu, scegliere window, poi show view, e qui, se non ce l'avete qua, potete andare a fare other, ma normalmente è mostrato qui, è package explorer. Quindi, window, show view e package explorer. Questo vi mostra il package explorer. A questo punto, dentro il package explorer, dovreste vedere esattamente quello che ho visto io, che vi ho mostrato un attimo fa. Il test lista lo mettiamo dentro questo package e abbiamo la nostra classe di test, che è quella che vedete qua. Ok? Allora, per creare la cartella di test, allora, vi ripeto tutto da capo. Assumo che voi abbiate il package explorer, esattamente come ho io. Se non ce l'avete, window, show view, e poi package explorer. Questa è la vista da utilizzare per sviluppare in java. Vi dà la possibilità di vedere esattamente le cose utili per il codice java. E quindi utilizzate quella facendo attenzione. Se vi scappa un project explorer, voi comunque potete riaprire l'altro, come vi ho fatto vedere. Anzi, project explorer, lo cancello perché così evitiamo problemi. Cioè, chiudo la finestra. A questo punto, la sequenza di passi che ho fatto è stato creare questa cartella di sorgenti. E questo lo faccio andando sul mio progetto e facendo new source folder. Quindi il mio progetto contiene già una cartella che è quella creata all'avvio del progetto, che si chiama src, in cui normalmente il codice sorgente viene messo. È creata automaticamente quando creo il progetto. Creo un source folder e lo chiamo test. E quindi ottengo questa cartella di codice. Perché è comodo andare a separarlo? Perché effettivamente il test, scusate, le classi di test, non verranno rilasciate al nostro cliente o alle persone in cui dobbiamo andare a consegnare il codice. Al nostro cliente daremo soltanto quello che sta sotto src. E quindi distingo il codice mio interno di sviluppo come il test dal codice che invece andrò a consegnare al mio committente. Una volta creato quello, ho creato un package. Quindi dentro questa cartella di codice vado a fare un new package e gli ho dato il nome esattamente identico al package che sto testando, cioè il tipo litro in felle 3 più oriste e ho aggiunto un punto test in fondo. Così è chiaro che quel package contiene il test per il package insomma a livello superiore, quindi senza l'ultimo pezzo di test. Cerchiamo di utilizzare dei nomi che siano significativi perché in questo modo è poi facile andare a orientarci perché se mettessimo i test per quel package in una cartella che si chiama pinco.pallino.test è ovvio che non li trovo più. e quindi usando questa convenzione quindi le due cartelle src e test e poi i package che hanno dei nomi sostanzialmente analoghi semplicemente col suffisso test ho tutto facilmente tracciabile quindi so dato una cartella dato un package qual è il package che contiene il test corrispondente nell'altro sottocartella di test. domanda non riesco a creare il package nella cartella di test verifica di avere il package explorer attivato e verifica di aver creato una cartella di tipo source folder attenzione che qui quando create qualcosa c'è sia source folder che folder ok se avete creato un folder non riuscite a creare un package all'interno dovete creare un source folder ok quindi qualcosa che è pensato per contenere dei sorgenti e che automaticamente Eclipse andrà a compilare una volta che ho il mio package e quindi ho tutti i nomi corrispondenti cosa faccio? vado a creare una nuova classe posso creare una classe vuota usando il solito approccio oppure andando a selezionare il package posso andare a fare new e qui mi ritrovo un junit test case se faccio quello e gli do il nome test lista come abbiamo fatto ottengo il codice che vediamo subito sotto a questo punto una volta che abbiamo il nostro la nostra classe di test possiamo finalmente andare a scrivere quelli che sono i test veri e propri come sono organizzati i test i test sono organizzati per metodi quindi all'interno della nostra classe di test abbiamo tanti metodi che normalmente hanno come nome test qualcosa questi metodi sono preceduti da questa che si chiama una annotazione non l'abbiamo vista ne parleremo poi verso la fine del corso delle annotazioni le annotazioni sono un meccanismo che permette di aggiungere alcune informazioni aggiuntive ai metodi agli attributi alle classi che possono essere utilizzate durante la compilazione oppure durante l'esecuzione del codice non entriamo ulteriormente nei dettagli sappiate che mettendo quella annotazione JUnit è in grado di capire che quel metodo è un metodo di test e poi di eseguirlo quindi a runtime può andare a data la classe capire quali sono i metodi all'interno di questa classe che hanno quella annotazione e considerarli come dei metodi di test e quindi eseguirli il test che abbiamo creato ovviamente è vuoto cioè il test che Eclipse ha creato per noi ovviamente è vuoto e ha semplicemente questa chiamata che dice fallisci quindi è un test ancora da creare e il messaggio che mi viene stampato è not yet implemented ok quindi il test c'è è minimale però non fa nulla e semplicemente si dice che non è stato ancora implementato per cui se io vado a selezionare il test e faccio un click destro e poi faccio run as junit test quello che ottengo è di attivare la vista junit in cui mi dice che sostanzialmente ha eseguito un test e mi dice che il test fallito è quello ok in particolare questo e qui sotto ci abbiamo la scritta not yet implemented quindi ci viene stampato il messaggio ok non mi fermo ulteriormente su junit perché giusto per farvi vedere che lo posso eseguire dopo torniamo e cerchiamo di capire esattamente che cosa significano tutti i pezzi della finestra junit domanda quindi test funge un po' come una parola chiave per il compilatore allora in generale le annotazioni possono servire al compilatore oppure alla virtual machine in questo caso test serve alla virtual machine quindi non al compilatore nel senso che il compilatore genera questa classe come tutte le altre classi semplicemente aggiunge dentro il bytecode un'informazione che dice che quel metodo che si chiama test è annotato con quella particolare classe di annotazione a runtime junit data una classe da eseguire come test sarà in grado di scoprire quali metodi hanno questa annotazione e di eseguirli ok ma ci arriviamo tra un attimo quando vediamo dopo aver scritto un test che cosa significa eseguirlo quindi togliamo questo che è ovviamente qualcosa di inutile andiamo a fare un test e andiamo a vedere lista diciamo vuota e andiamo a vedere se la nostra lista la classe qua la lista di interi che abbiamo scritto inizialmente creata è vuota quindi andiamo a verificare che il metodo quanti ci restituisca sostanzialmente zero non appena la lista è stata creata ok diciamo è il è il test più più semplice che potevamo scrivere allora riapriamo il nostro test e quindi tutte le volte che io ho un test sostanzialmente ho due parti ok la prima parte ok parte 1 del metodo di test faccio delle operazioni con le le classi da testare faccio qualcosa con il la classe che voglio andare a testare parte 2 verifico che le classi in realtà i loro metodi comportino come mi aspetto tutti i test hanno queste due componenti a volte non sono ben nettamente divise perché a volte è più comodo fare operazioni verifiche operazioni verifiche alternate però queste due componenti sono sempre presenti nella parte 1 io vado a creare la classe lista interi l uguale new lista interi ovviamente questa classe non è visibile perché si trova in un altro package e quindi semplicemente vado a dire a Eclipse lo so fammi tu aggiungimi tu l'import e quindi Eclipse mi aggiunge questo import qua su in modo che la classe sia visibile e possa creare un oggetto di questa classe qui mi fermo nel senso che non faccio altre operazioni e vado semplicemente a verificare che il numero di elementi nella lista appena creata sia zero come faccio a fare la verifica la verifica la faccio con una serie di metodi che si chiamano assert qualcosa nel caso specifico vogliamo mettere un assert equals ok e nell'assert equals noi andiamo a passare sostanzialmente due parametri che sono il primo è il valore che mi aspetto ok dovrei avere zero quindi fatemelo scrivere in questo modo un pochettino più espanso int valore atteso uguale zero int valore effettivo uguale a l punto quanti quindi metto valore atteso e poi valore effettivo che cosa fa il metodo assert equals alla fine assomiglia tanto a un if quindi se i due parametri sono uguali allora bene il programma si comporta come volevamo ottimo posso andare avanti il test e fare altre verifiche sempre che siano utili e necessarie se invece quel confronto non va a buon fine cioè il valore effettivo e il valore atteso sono diversi che cosa succede assert equals sostanzialmente mi ferma il test mi dice attenzione l'esito di questa verifica non è andato a buon fine quindi il test il test inteso il metodo di test è considerato un metodo fallito ok mi aspettavo zero ho ottenuto un altro valore risultato test fallito per cui a questo punto salvo questa classe rieseguo il test stavolta eseguo il test con qualcosa che sia significativo quindi faccio un runes junit test e quello che succede è che vedo questa barra verde in alto verde è un colore rilassante ok e la semantica è tutto bene se c'è qualcosa che non va rosso ok quindi la barra verde vuol dire che va tutto bene che cosa c'è scritto dentro questa vista junit allora in alto a destra qua su abbiamo runs uno su uno e mi dice sostanzialmente che è stato eseguito un test su uno definito ovviamente il tempo di esecuzione è stato infinitesimale lo vediamo qua su in alto finished after 0,027 secondi quindi 27 millisecondi di tempo di esecuzione di questo test quindi quell'uno su uno è sostanzialmente fisso ma se io avessi centinaia o migliaia di test che possono richiedere più tempo quel valore lì lo potrei vedere incrementare potrei anche avere alcuni test che non vengono eseguiti che so perché c'è un qualche problema e quindi il test non è potuto essere eseguito nel caso ideale io dovrei riuscire ad eseguire tutti i test che ho definito e poi ho errori e fallimenti che sono i test che non sono dati a buon fine in questo caso 0 e 0 perché noi avevamo un unico test che è andato a buon fine il programma che avevamo scritto funzionava e il test semplicemente verifica che effettivamente quello sia l'esito se io vado a prendere la classe di test che è elencata qua e la espando vedete che io ho il metodo di test che è questo che abbiamo appena scritto immaginiamo di aver commesso un errore e aver scritto qua per sbaglio più 1 e nella classe lista di interi invece di fare un ritorno di conteggio che è quello che avevamo scritto originariamente che è quello corretto immaginiamo di aver commesso un errore di non ricordarci più come funzionano gli indici e di mettere un conteggio più 1 a questo punto se io rieseguo il test lo faccio direttamente dalla finestra JUnit che è un pochettino più veloce vedete qui ho un la freccettina bianca su fondo verde sostanzialmente mi permette di andare a fare un rerun una riesecuzione dei test che ho appena eseguito e quindi vado a selezionare questo e rieseguo il test a questo punto vedete che la barra è rossa e il numero di fallimenti quassù è diventato 1 ma che vuol dire che dei test che ho scritto 1 è fallito e vedete che è già subito evidenziato e qui sotto ho le informazioni specifiche su quello che è avvenuto allora domanda i test sono un modo alternativo alle varie printf e debug passo passo allora non è un modo alternativo al debug ok nel senso che il debug è un qualcosa che richiede la mia interazione quindi il debug mi permette di andare a capire che cosa fa il programma nel dettaglio il test sostanzialmente mi dice il tuo metodo ti ha restituito un certo valore era quello che mi attendevo oppure no quindi la granularità è diversa inoltre anche l'obiettivo è diverso il debug è un qualcosa che io voglio utilizzare per andare a identificare un possibile problema il test è qualcosa che mi serve per evidenziare il problema quindi se eseguo il test e scopro che un test fallisce ecco allora potrei andare a fare il debug e quindi andare a fare la localizzazione del difetto e quindi il debug è successivo le printf ecco se vogliamo le printf che mi danno un risultato intermedio potrebbero essere analoghe al test il grosso vantaggio dei test rispetto al printf è che le printf io devo andare a ispezionarle a mano se non devo andare a vedere la printf mi dice ah il valore è stato questo e devo sapere io qual è il valore giusto e poi confrontarlo e capire quindi se il programma si comporta correttamente o meno se io ho un programma alle 50 righe va bene riesco a farlo se io ne ho di righe 5000 è qualcosa che non posso fare i test automatizzano tutta l'operazione di verifica e mi dicono guarda che questo test è dato a buon fine questo no quest'altro sì eccetera domanda test è come un commento oppure serve effettivamente gli uniti no la notazione chioccio la test è un qualcosa di sintatticamente rilevante quindi non è un semplice commento domanda in questo caso se avessi avuto altri test nel metodo test lista vuota non sarebbero stati eseguiti esattamente quindi se io avessi avuto scusatemi ho delle notifiche attive che evidentemente avrei dovuto disattivare mentre altri test in altri metodi vengono comunque eseguiti sì se io avessi dopo l'assert che ho scritto altri assert quelli non sarebbero stati eseguiti ma altri metodi presenti nella stessa classe o eventualmente in altre classi invece sarebbero stati eseguiti questa è la logica dell'esecuzione andiamo a vedere il risultato quindi qui abbiamo visto che abbiamo un fallimento qui ci dice guarda che questo è il metodo che è fallito e qui sotto selezionando questo test fallito ci dà i dettagli il dettaglio gli dice assertion error expected 0 but was 1 quindi il metodo assert equals ci ha dato un dettaglio in più ci dice guarda mi aspettavo 0 ma ho ottenuto 1 e questo messaggio viene costruito dal metodo assert equals subito sotto ho lo stack di chiamata esattamente come quando ho un null pointer exception o qualunque altro problema se io vado a fare un doppio click su questa linea dove del test quello che ottengo è di andare a evidenziare la riga all'interno del test che mi ha dato un fallimento e che è quella che avevamo specificato prima a questo punto posso andare ad aggiungere una serie di altri test oppure posso andare a diciamo dettagliare ulteriormente questo piccolo test andando ad aggiungere un parametro abbiamo detto che assert equals riceve due parametri in realtà ci sono due varianti due overload del metodo assert equals che sono esattamente identici nelle funzionalità tranne che uno riceve tre parametri il cui il primo parametro è una stringa e l'altro ne riceve soltanto due la stringa che viene passata come primo parametro è il messaggio d'errore che quindi dettaglia ulteriormente la causa del fallimento che viene stampato quindi se io vado qui a mettere lista appena creata non vuota e poi metto i soliti due valori il valore atteso e il valore effettivo quindi se vado a rieseguire il tester con questo messaggio specificato quello che ottengo è sostanzialmente vedete che il messaggio è un pochettino più esteso lista appena creata non vuota e poi expected 0 but was 1 quindi la parte finale c'è sempre e in più mi ha aggiunto questo messaggio qua quindi mi dà un pezzo di informazione aggiuntiva a questo punto se vado a prendere la mia lista di interi e vado a correggere il mio conteggio ok e rieseguo il mio test ottengo vedete la barra verde e nessun problema a questo punto torno al mio test e vado a raggiungere altri metodi altri metodi di test quindi vado a mettere un chiocciola test ok public void test lista un elemento elemento quindi sostanzialmente anche qui vado a creare un'altra lista di interi l faccio un l punto add e vado ad aggiungere un valore ok a questo punto faccio un assert equals mi aspetto uno come dimensione e faccio l punto quanti uno ok poi faccio un assert equals mi aspetto 33 e il valore faccio l punto testa domanda quindi anche se il programma compila correttamente ci potrebbero essere dei failure segnalati dai test sì sostanzialmente il programma che compila correttamente vuol dire che sintaticamente il codice è corretto e il programma è stato in grado di il compilatore è stato in grado di generare il bytecode corrispondente i fallimenti mi dicono che il risultato che è prodotto dal programma non è quello che mi aspettavo e quindi ovviamente se voi avete scritto un più uno come nel caso di prima il programma è corretto ma il risultato non è quello che mi aspettavo e quindi l'esito è un fallimento del test domanda quindi i test servono per controllare gli errori semantici sì non li chiamerei semantici ma verificare che le funzionalità del programma siano corrette quindi se mi aspetto che quanti mi restituisca il numero di elementi verifico che effettivamente il numero di elementi sia quello che è specificato e quindi 0 per la lista appena creata 1 dopo che ho aggiunto un elemento quindi se a questo punto vado a rieseguire il mio test salvo il file ovviamente vedete che ho due test eseguiti la barra verde è tutto a posto quindi il mio test funziona correttamente aggiungo un altro test che sostanzialmente copia questo ok test lista diciamo non un elemento ma tre elementi e vado ad aggiungere 33 42 97 a questo punto mi aspetto che ci siano tre elementi e mi aspetto che in testa ci sia 97 rieseguo il tutto e ottengo di nuovo la barra verde perfetto vuol dire che il mio programma si comporta esattamente come mi aspettavo domanda nei file di laboratorio dove troviamo i test allora per il momento non li trovate ok nel senso che non c'erano e di solito non vengono dati come punto di partenza se entro oggi fate un commit magari l'avete già fatto nei giorni precedenti o il giorno del laboratorio tra questa sera e domani mattina verranno eseguiti automaticamente dei test e riceverete via mail l'informazione su l'esito dei test sostanzialmente la versione testuale di quello che vedete qua eventualmente anche la parte di fallimento se se alcuni test sono falliti e un link al al file jar che contiene i test quindi i test sono dati separatamente per quanto riguarda i prossimi laboratori invece di avere un metodo main di prova avrete un metodo di test ok un po' più lungo di questo analogo al metodo main però l'idea è che verrà dato un test così sommario un po' di alto livello non troppo dettagliato che potrete utilizzare come guida per verificare che il vostro programma almeno per sommi capi faccia quello che ci si aspetta e quello che è definito dai requisiti quindi se volete il test che vi verrà dato all'interno del progetto di partenza un po' complementa i requisiti e vi dà un esempio di come vengono chiamati i metodi e di cosa ci si aspetta come valore di ritorno per quanto riguarda l'esame la struttura sarà esattamente questa quindi vi verrà dato un progetto di partenza con dei test più generici un po' meno dettagliati e poi successivamente verranno eseguiti dei test più dettagliati e vi verrà mandato l'esito questo è la struttura dei laboratori il primo c'era un metodo main perché ovviamente non sapevate ancora cos'erano i test a questo punto voi sapete cosa sono i test vedrete i risultati e potrete andare avanti domanda possiamo espandere i test forniti con altri test no potete tranquillamente scrivere aggiungere voi dei test quindi noi vediamo il test generico con alcune caratteristiche voi potete tranquillamente aggiungere altri test o modificare il test che vi viene già dato e questo è un riferimento in più vi conviene piuttosto invece di aggiungere di andare a modificare il test vi conviene aggiungere dei metodi di test in modo che il test che vediamo noi come riferimento resti intatto e voi potete aggiungere altri metodi di test tranquillamente per andare a testare ad esempio degli aspetti che non sono verificati dal test che vi diamo noi in generale diciamo ai fini dell'esame non è richiesto che voi scriviate dei test anche perché nel tempo disponibile non c'è non riuscite a scrivere anche i test quindi vi concentrate sul codice di produzione i test li scriviamo noi ovviamente se avete un po' di tempo a disposizione è molto utile perché alla fine un programma che compili correttamente che però vi dia dei risultati sbagliati non è quello che vorreste andare a creare e quindi sicuramente se riuscite a scrivere dei test è qualcosa che va sicuramente a vostro vantaggio nel senso che avrete un programma che più ragionevolmente più probabilmente farà quello che ci si aspetta quello che dovrete essere in grado di fare invece è ovviamente capire che cosa è un test che cosa scrive che cosa richiede e saperli eseguire quindi saperli eseguire in questo modo quindi con JUnit e vedere quali sono i risultati e interpretarli e quindi da un test che fallisce risalire a quella che è la causa dell'errore e correggerlo quindi ragionevolmente dopo che voi avete ricevuto i test quello che ragionevolmente potreste fare è rieseguirli in locale e provare a correggere i difetti nell'esame è quello che vi verrà chiesto di fare quindi dopo che avete sostenuto l'esame consegnato la versione iniziale del progetto durante l'orario ufficiale dell'esame successivamente vi verranno mandati i test e gli esiti poi prendete i test correggete tutto quello che non funziona e fate il commit della versione aggiornata con il codice corretto che superi tutti i test nel caso dell'esame avete normalmente 3-5 giorni di tempo c'è un po' di variabilità perché dipende da quanto sono vicini gli appelli se gli appelli sono molto vicini vi diamo meno tempo in modo da riuscire a correggere in tempo per l'appello successivo altrimenti vediamo anche qualche giorno in più il voto poi si baserà ovviamente su due parametri che sono uno la percentuale di test superati due quanto avete dovuto modificare il vostro programma perché superasse tutti i test è ovvio che se il vostro programma già supera il 100% di test le modifiche saranno sostanzialmente nulle e quindi prendete il massimo se come può succedere è stato fatto qualche errore se gli errori sono poco gravi ragionevolmente voi con una piccola modifica riuscite a risolvere il problema se ad esempio non avete del tutto implementato alcuni metodi questo richiederà ovviamente delle modifiche un po' più pesanti quindi queste due questi due aspetti vanno a influenzare quello che poi sarà il voto finale della parte di programmazione perché nell'esame abbiamo detto c'è oltre alla parte di programmazione che è quella che pesa sostanzialmente quasi il 90% c'è anche una piccola parte di teoria su tutto quanto visto quindi diciamo il contenuto delle slide quanto visto lezioni e se il programma già superasse tutti i test e noi facessimo qualche modifica se voi fate qualche modifica il programma non passa i test fallite l'esame se fate qualche modifica diciamo così estetica di ottimizzazione è rilevante nel senso che non viene contata quindi se il vostro programma già supera tutti i test non è richiesto che facciate nulla però se vi impegnate riuscite a fare in modo che non superi tutti i test il programma che potenzialmente vi dava al massimo vi porta a non superare l'esame quindi la mia raccomandazione è se passate tutti i test non toccatelo ok ovviamente potete farlo tranquillamente in locale andare a giocare col vostro codice in locale e questo noi non lo vediamo quello che conta è poi il commit che viene fatto dopo domanda quindi per essere valutato deve passare tutti i test sì ovviamente non la versione dell'esame ma la versione successiva deve superare tutti i test sì ok quindi se volete quella che io chiamo la soglia della decenza per superare l'esame è dato un programma che avete scritto voi e dato l'esito dei test dovete essere in grado di correggere il programma in modo che superi tutti i test ok se non siete in grado di fare questo il programma l'esame ovviamente non lo superate altro piccolo dettaglio se il vostro programma ha qualche errore di compilazione e voi provate eseguire i test ovviamente fallisce tutto ok perché il test non sono in grado di andare a richiamare metodi di classi che non è stato possibile compilare quindi primo passo per essere sicuri di poter passare dei test è avere un codice che sia privo di errori sintattici quindi quelli che il compilatore vi evidenzia ora vi riporto al package explorer vedete che il compilatore mi ha evidenziato che qui c'è un errore lo vedo su tutti il progetto su src sul package e sulla classe se ho questo vuol dire che il programma non compila vuol dire che ragionevolmente i test falliranno tutti ora capite capite benissimo che se io ho due componenti per andare a calcolare il voto finale e una di queste due componenti è zero il voto non potrà essere molto alto come come vi stavo dicendo se voi non mettete un punto e virgola il numero di test passati è zero quindi la percentuale è zero se invece fallite una percentuale di test ovviamente non avrete zero come percentuale di test superati ma avrete non so 20 50 70 ok se voi non mettete il punto e virgola siete sicuri che siete a zero quindi prima di fare il commit salvate tutto ricordatevi di salvare tutto perché a volte ci sono due file che avete modificato indipendentemente non li avete salvati nel momento in cui li salvate salta fuori un errore perché magari c'è un disallineamento tra un nome utilizzato da una parte e quello definito dall'altra quindi verificate di aver salvato tutto verificate che non ci siano errori di compilazione dopodiché fate il commit ovviamente tornando al scenario dell'esame se voi vi riducete a fare il commit negli ultimi tre secondi e scoprite che c'è un errore di compilazione è difficile che riusciate a risolverlo quindi cercate di fare quello che io chiamo un commit di sicurezza 15-20 minuti prima della fine dell'esame un commit che vi garantisca nel caso in cui altre cose vadano male di avere una percentuale ragionevole di test superati quindi normalmente cosa succede mediamente ci sono un certo numero di requisiti diciamo 4 o 5 i primi requisiti sono tendenzialmente un po' più facili da implementare quelli successivi sono un po' più elaborati anche perché si basano su quello che viene prima raggiunto insomma i tre quarti del compito io mi immagino che almeno metà dei requisiti li abbiate implementati correttamente a quel punto fate un commit anzi la mia raccomandazione è ogni volta che finite l'implementazione di uno dei requisiti effettuate un commit questo vuol dire che nell'ipotesi peggiore in cui succeda qualche catastrofe successivamente almeno un pezzo di requisiti il 20 25% dei test comunque passeranno molto meglio il 25% di zero quindi se voi fate i commit periodici quello che c'è sul repository ovviamente deve essere sintaticamente corretto a questo punto potete tranquillamente andare avanti e aggiungere i pezzi quindi quando siete sicuri avete il codice corretto i test che vi diamo generali passano a questo punto fate il commit dell'ulteriore pezzi domanda ogni test ha la sua valutazione provo a interpretare la domanda perché non sono sicuro del senso se ogni singolo test può avere un peso diverso allora in prima approssimazione tutti i metodi hanno lo stesso tutti i metodi di test hanno lo stesso peso questo diciamo che tendenzialmente va a vostro avantaggio perché vuol dire che i test diciamo un po' più semplici e banali e che quindi sono implementabili con poco sforzo vi danno comunque la possibilità di avere un punteggio un po' più alto e quelli più complicati comunque non pesano tanto più degli altri se ci sono casi particolari i pesi potrebbero essere variati quindi alcuni metodi di test potrebbero essere pesati più di altri tendenzialmente questa è una valutazione che noi facciamo a posteriori vi faccio un esempio immaginate che i requisiti siano scritti in maniera ambigua e che tutti voi abbiate capito in maniera diversa rispetto a quello che intendevamo noi come docenti che abbiamo scritto l'esame a questo punto è ovvio che quel particolare test o verrà modificato o verrà tolto o verrà pesato molto di meno rispetto agli altri questo è sostanzialmente il motivo per cui i test non vi vengono inviati tre secondi dopo la fine dell'esame perché i test vengono eseguiti si verifica che non ci siano delle grosse anomalie quindi verifichiamo che non ci siano test che non sono stati passati da nessuno questo per darvi un esempio più evidente e quindi se non ci sono grosse anomalie i test poi vengono mandati se ci sono grosse anomalie ragionevolmente i test vengono corretti e quindi vengono poi mandati a voi restando sull'esame è possibile che anche dopo che vi sono stati mandati i test qualcuno di voi scopra che c'è qualche anomalia oppure qualcuno dica sì va bene ho capito il test però i requisiti quindi le parole il test dei requisiti poteva essere interpretato anche in un altro modo non esattamente quello di test quindi i requisiti erano ambigui in questo caso ovviamente scrivete noi verifichiamo che effettivamente c'era quell'ambiguità e nel caso andiamo a correggere i test e rimandiamo al risultato a tutti sì gli esami degli anni passati sono già a disposizione con i relativi test sulla pagina del corso attenzione riguardo le ambiguità durante l'esame ci sarà una virtual class in cui sarà possibile fare domande di chiarimento quindi se c'è un requisito che è ambiguo e durante l'esame ve ne accorgete e chiedete chiarimenti ovviamente noi rispondiamo a questo punto il chiarimento è un chiarimento ufficiale ok quindi durante l'esame mi raccomando buttate un occhio sul virtual classroom perché potrebbero esserci delle informazioni utili per chiarire aspetti che altrimenti sarebbero ambigui quindi se c'era un'ambiguità nei requisiti questa ambiguità è stata chiarita durante l'esame nella virtual classroom quella ambiguità si considera risolta quindi raccomandazione non mettetevi a testa bassa da programmare ogni tanto andate a vedere la virtual classroom per capire se ci sono state delle segnalazioni delle informazioni di chiarimento poi è ovviamente possibile che noi commettiamo degli errori è successo in passato in questo caso se un test va a verificare qualcosa che era ambigo oppure lo verifica in maniera sbagliata il test viene corretto ok e viene mandato la versione aggiornata a tutti ok non vedo altre domande specifiche direi che siamo un po' andati sulla deriva esami ma ovviamente è ovvio che ci sia un po' di curiosità di domande su questi aspetti comunque ripeto l'organizzazione dell'esame sarà esattamente analoga ai laboratori che farete durante il corso il primo laboratorio ovviamente era un po' un caso a sé nel senso che era il primo che serviva per familiarizzare con l'ambiente capire un po' di dettagli dal prossimo laboratorio sostanzialmente avrete a che fare con qualcosa che assomiglia a un tema d'esame ovviamente il prossimo sarà ancora un po' più semplice di quelli che potreste trovare in un esame reale anche perché non abbiamo ancora visto tanti argomenti però l'idea è che quelli sono dei temi d'esame magari semplificati togliendo alcuni argomenti a questo punto a questo punto facciamo una breve pausa diciamo dieci minuti mi faccio 9.42 diciamo alle 9.55 arrotondati riprendiamo la lezione e andiamo a vedere alcuni dettagli ulteriori di JUnit e come vengono organizzati i test ok quindi pausa allora dopo aver fatto un po' di approfondimenti su le implicazioni relative alle modalità d'esame dei test torniamo a come scriviamo possiamo scrivere i test e quindi sostanzialmente per quello che riguarda la vostra la vostra responsabilità relativamente a questo corso come andare a leggerli e come fare a capire qual è il loro significato e quindi risalire da un eventuale test fallito a quella che potrebbe essere la causa primo dettaglio se notate questi tre test che abbiamo scritto iniziano tutti con lista L uguale new lista interi quindi c'è una parte fissa all'inizio di ogni test questo vuol dire che in realtà sto ripetendo lo stesso provamento di codice tutte le volte questa situazione capita molto spesso c'è una fase iniziale di definizione di una serie di oggetti e poi dopo ci sono i test veri e propri quindi le operazioni ad esempio di aggiunta di un nuovo elemento per questo scopo in JUnit è previsto un modo di definire quella che si chiama una fixture ovvero un pezzo fisso che viene eseguito sempre prima di ogni test la fixture viene introdotta da un'annotazione che si chiama before e da un metodo public void che normalmente si chiama setup e si chiama setup per diciamo motivi storici nel senso che questo era il nome predefinito nelle versioni precedenti di JUnit in JUnit 4 ma anche in JUnit 5 io non ho la necessità di chiamarlo per forza setup ma diciamo convenzionalmente questo è il nome che gli viene dato l'annotazione before non è importata occorre importare before quindi le annotazioni sono sostanzialmente delle classi molto particolari quindi sono definite in termini di classi e possono essere importate ok se andiamo a vedere qua su c'è un import di OrgeUnit Test e un import di OrgeUnit Before ok e quindi questi sono importati esattamente come facciamo con le classi per quanto riguarda i metodi di Assert questi sono definiti avete ImportStatic OrgeUnitAssert punto asterisco quindi la classe OrgeUnitAssert contiene un insieme di metodi statici che sono quelli che consentono di fare le varie operazioni di Assert quindi abbiamo introdotto questa nuova annotazione che serve per andare a identificare qualcosa che viene messo prima di ogni test che si chiama Fixture e sostanzialmente cosa faccio andrò a mettere questa parte qua ok ovviamente se io lo scrivo così non serve a niente perché la variabile l che è locale a questo metodo una volta afferminato il metodo si perde quindi l'oggetto che ho creato non va da nessuna parte quello che devo fare è andare a mettere un attributo lista interi e andare a inizializzare quell'attributo quindi prima di ogni metodo viene eseguito questo che si chiama per l'appunto before e crea un oggetto di tipo lista interi che viene memorizzato dentro il riferimento l il riferimento l è poi accessibile in tutti gli altri metodi senza ovviamente dover andare a fare nulla quindi senza dover per forza andare a creare l'oggetto perché è già creato una volta sola da quel metodo di setup quindi è cosa comune trovare all'interno di una classe di test un metodo che si chiama setup che ha esattamente questo scopo poi nel nostro esempio il setup è veramente banale però in generale può essere un pochettino più complicato domanda quindi prima di un test viene creato un oggetto nuovo esattamente l'idea è che prima di chiamare ognuno di questi metodi di test viene chiamato il metodo setup quindi dentro junit c'è test.setup e poi test.listavuota test.setup e poi test.listavuota list un elemento quindi l'idea è che vengano fatti uno dopo l'altro viene fatto una volta ogni volta prima di ogni metodo quindi l'idea è che l'oggetto viene creato ogni volta prima di ogni metodo quindi l'oggetto che utilizza un metodo è sostanzialmente nuovo quindi ripeto tutto da zero quindi mi crea un contesto in cui io posso andare ad applicare il test ok per cui molto spesso si trova questo metodo di setup che è comodo perché permette di scrivere una volta sola tutta questa serie di inizializzazioni che poi verranno ripetute automaticamente prima di ogni test a questo punto andiamo a vedere quali altri tipi di assert sono possibili allora oltre all'assert che è probabilmente quello più più comune esiste un altro assert che si chiama assert not null che è molto comodo se io vado a vedere il risultato di una di una chiamata a un metodo che mi dovrebbe restituire un riferimento prima di fare qualunque cosa vado a verificare che non sia nullo tendenzialmente l'assert not null viene fatto prima di qualunque altra operazione in modo che se il riferimento che sto per utilizzare risulta essere nullo cosa faccio fallisco il test altri tipi di assert oltre all'assert equals sono l'assert true che sostanzialmente verifica che una certa condizione sia sia vera e quindi ad esempio invece di andare a fare un assert equals fatto così posso fare un assert true di valore atteso uguale uguale valore effettivo ok ovviamente se devo fare un confronto tendenzialmente uso l'assert equals perché l'assert equals è anche in grado di farmi una verifica e stamparmi direttamente il messaggio molto più specifico mentre invece l'assert true con l'uguale uguale tendenzialmente non mi dà un messaggio mi dice che è fallito e basta domanda quando abbiamo costruito il test case c'è l'opzione per creare un metodo di setup sì esattamente vi ho detto lasciamolo perdere perché ci lo facciamo dopo però se immaginate già di dover utilizzare un metodo di setup potete selezionarlo quando create la classe di test e automaticamente vi viene aggiunto domanda assert null in questo caso non sarebbe più corretto l'inserito nella fixture allora a rigore sì qui ve l'ho messo semplicemente come esempio in realtà la fixture non dovrebbe testare nulla perché non so bene poi a che test si riferisca quindi la fixture dovrei presupporre che vada a buon fine comunque quindi in generale non è corretto mettere un assert all'interno della fixture perché la fixture è di inizializzazione e quindi non testa e non è pensato per testare ovviamente se io metto un assert dentro la fixture e quell'assert fallisce ovviamente fallisce per tutti i test e quindi tutti i test alla fine falliscono però generalmente l'idea è che il setup dovrebbe essere più sicuro e senza problemi possibile e poi vado a mettere specifiche assert all'interno di ogni metodo di test l'assert equals è tendenzialmente da preferire vi stavo dicendo rispetto all'assert true perché mi dà un messaggio di più specifico su che cosa non è andato bene nel confronto quindi funziona molto bene quando invece di fare un confronto tra valori numerici che può andare quando io faccio un assert equals tra un valore atteso e un valore effettivo e il risultato di questo di questo assert ovviamente non c'entra nulla in questo metodo ma giusto per farvi vedere qual è l'esito se io vado ad eseguire il test ah scusate ho dimenticato di correggere il punto e virgola qua quindi fondisce tutto ovviamente vado a rieseguire il test vedete che il messaggio di errore che mi viene messo qua è un valore atteso battuoso un valore effettivo ok se io faccio un doppio clic qua mi viene mostrata una differenza tra quello che mi attendevo e quello che ho passato con evidenziato in rosso i punti di differenza per cui un valore spazio è esattamente identico sia di qua che di qua poi effettivo che è evidenziato in rosso invece è diverso rispetto all'atteso la O finale invece corrisponde nei due casi quindi c'è un confronto molto dettagliato delle stringhe che io posso andare a ispezionare con più attenzione per capire dove le due stringhe differiscono questa cosa qua ovviamente c'è nel caso in cui io uso un assert equals se utilizzo un assert true con stringa1 punto equals stringa2 questo dettaglio non ce l'ho a disposizione per cui in generale la raccomandazione utilizzate sempre l'assert equals quando dovete fare dei confronti domanda un assert null dovrebbe essere inserito prima di chiamare i metodi sull'oggetto sì l'idea è che l'assert null dovrebbe essere inserito prima di fare delle chiamate sui metodi altrimenti il risultato è che ho un null pointer exception avevamo detto che se ci sono più assert viene eseguito soltanto il primo allora attenzione i test vengono gli assert vengono eseguiti tutti l'idea è scusate che torno al mio test qui l'idea è che gli assert vengono eseguiti uno dopo l'altro ci si ferma nel momento in cui un assert fallisce quindi se un assert fallisce quelli successivi non vengono più eseguiti altrimenti finché gli assert hanno successo li passano io proseguo l'esecuzione del metodo in maniera assolutamente normale quindi se un metodo raggiunge la fine vuol dire che tutti i metodi di assert sono stati chiamati tutti hanno dato risultato positivo tutti sono passati e quindi alla fine vuol dire che in generale il metodo di test è passato se invece uno dei metodi di assert fallisce l'esecuzione di quel metodo viene fermata a quel punto e tutto quanto segue non viene eseguito ma semplicemente il metodo di test si ferma lì e basta e segnala ovviamente un fallimento quindi basta un assert che fallisca per avere il fallimento del metodo mentre invece devo avere tutti gli assert che hanno successo per avere il successo del metodo è un po' è un po' sbilanciato ma ovviamente a me basta un minimo problema per dire che il mio programma non funziona ok o funziona e quindi funziona in tutti i casi oppure basta un piccolo dettaglio per indicare che il programma non funziona è possibile rendere il confronto like piuttosto che equals allora possiamo utilizzare delle espressioni regolari di cui parleremo poi più avanti non c'è un assert specifico per fare questo tipo di confronti ok lo posso costruire ma non ce n'è uno predefinito domanda l'assert equals nel caso in cui passi dei riferimenti confronti i riferimenti o i contenuti ovviamente chiamandosi equals fa esattamente l'operazione della equals del metodo equals e quindi confronta i contenuti se io volesse andare a verificare che invece gli oggetti siano gli stessi esiste un altro metodo che si chiama non assert equals ma bensì si chiama assert same quindi se io faccio assert same mi dice mi verifica che effettivamente i due riferimenti siano lo stesso e ovviamente se lo scrivo così essendo due stringhe diverse cioè oltre a essere diverse come contenuti è ovvio che sono anche diverse come oggetti essendo le stringhe immutabili se io vado a fare mettere la stessa stringa ricordiamoci dello string pooling di cui parlavamo la volta scorsa in questo caso l'assert same passa nel senso che come risultato dello string pooling quelle due stringhe verranno poi tradotte in riferimenti a esattamente lo stesso oggetto perché sono state internalizzate e quindi effettivamente sono due stringhe separate ma che in realtà vengono memorizzate come lo stesso oggetto e quindi se io vado ad eseguire questo scusate lo metto prima perché quell'assert equals che abbiamo scritto tra le due stringhe ovviamente fallisce quindi non potrei eseguire il regolo successivo ecco se io eseguo a questo punto ovviamente salvando vedete che il il fallimento avviene qui e l'assert same mi ha dato come risultato positivo quindi è passato quel test ok quindi questo per darvi una buona panoramica sui vari metodi di assert esiste esiste ancora un altro metodo che è quello che abbiamo visto nella versione iniziale che è il metodo fail immaginate di voler fare una un qualche una qualche verifica complicatissima quello che potete fare è andare a scrivere if 1 più anzi 1 meno l punto quanti uguale o uguale a 0 fare una serie di if eccetera 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 ok questo lo posso fare con assert room un altro modo è fare posso fare una serie di verifiche posso fare dei cicli posso andare a fare tutto quello che volete e sostanzialmente a un certo punto fare un if e poi mettere un fail ok test fallito per per il motivo e qui vado a mettere nel messaggio il motivo per cui è fallito il test quindi in questo modo io posso tranquillamente andare a fare operazioni complicate e se si verifica una particolare condizione faccio un fail lo vedremo che si usa in alcuni casi molto particolari ma l'idea è ho anche questa possibilità ok adesso giusto per riepilogare i metodi di assert sono quelli che vedete qua quindi abbiamo l'assert true abbiamo anche un'assert false che per evitare di mettere la negazione è in realtà poco poco rilevante l'assert equals che abbiamo già visto e che è quello forse più utilizzato in assoluto abbiamo un'assert same che verifica che i due riferimenti siano sostanzialmente lo stesso asset not same che è la stessa cosa negata asset null e asset not null che verificano che il riferimento sia nullo o meno e il metodo fail che se viene eseguito comporta il fallimento di quello che è il il metodo di test quindi questi sono i metodi principali che permettono di andare a fare i test come funziona giusto per epilogare JUnit allora io a JUnit passo un test infatti avevamo iniziato selezionando un test dicendo esegui un test JUnit cosa fa va a vedere tra i metodi di questa classe quelli che hanno ad annotazione test oppure before e per ognuno dei metodi di test che cosa fa chiama before e poi chiama quel metodo e registra se quel metodo è terminato senza nessun problema oppure se quel metodo è terminato con un fallimento e sostanzialmente va a contare qui il numero di assert che non sono stati soddisfatti la cui condizione non è stata soddisfatta ok esiste anche la possibilità oltre ai fallimenti ovvero un assert viene chiamato e restituisce un valore falso nel senso che la condizione non è verificata esiste anche la possibilità di avere quelli che sono dei errori che cos'è un errore allora un errore è quando durante il test si verifica una condizione anomala null point exception giusto per farvi un esempio il risultato è che il nostro test ovviamente non può proseguire se durante il test non riesco neanche ad arrivare ad eseguire le chiamate dei metodi ma mi viene generato un null pointer exception non ho dei valori da confrontare con l'assert equals ad esempio il mio programma non ha funzionato ad esempio se io qui invece di fare l.add prima aggiungessi un l uguale null che cosa succede che qui cerco di fare l punto l però l'ho appena inizializzato a null risultato null pointer exception per cui se vado a eseguire questo test vedete che ho un fallimento qua su e un errore i fallimenti sono indicati con questo simbolo blu e gli errori con il simbolo rosso se vado a vedere l'errore vedete che qui sotto mi viene indicato che è un null pointer exception ovviamente qui ho lo stack di chiamata che mi dice dove quel null pointer exception è stato generato quindi fallimento ho scritto un assert la condizione specificata dell'assert non è verificata errore il mio programma per qualche motivo ha lanciato un'eccezione null pointer exception è probabilmente quella più comune ma potrebbero essercene anche altre ok in linea teorica gli errori sono decisamente più gravi dei fallimenti perché un fallimento vuol dire che il mio programma ha prodotto un risultato però quel risultato non è quello che mi aspettavo un fallimento normalmente vuol dire che il mio programma non è arrivato neanche a produrre un risultato ok in termini di esame noi trattiamo errori e fallimenti allo stesso modo ok quindi i test possono essere falliti oppure essere stati interrotti da un errore vengono considerati allo stesso modo ok è un test che non è passato quindi nell'esito dei test che vi verranno inviati ovviamente ci saranno eventuali fallimenti e anche eventuali errori gli errori sostanzialmente si chiamano così perché tendenzialmente corrispondono a un errore di programmazione ok ho dimenticato di inizializzare un attributo e quindi ho un null pointer exception ho utilizzato un indice sbagliato quindi vado a finire fuori dai limiti di un array oppure altri tipi di errore ho cercato di convertire un numero in un intero una stringa che contiene non un intero ok un number format exception quindi tutti questi sono tanti casi che mi portano a errori per cui nel caso di un errore devo andare a capire dove si trova e risolverlo ok nel caso di un fallimento devo andare a capire perché il risultato è diverso da quello che mi aspettavo e quindi andare poi a correggere il mio codice in modo che produca il risultato corretto e non quello errato ok ok quindi abbiamo visto come funziona il gunit oltre a dargli in pasto una classe io posso dargli in pasto anche un intero package di classi e quindi lui per ogni classe va a vedere tutti i metodi che si chiamano test prima di ogni metodo esegue l'eventuale before e poi chiama il metodo test e quindi mi raccoglie le statistiche di esecuzione dei test su tutte le classi del package che è quello che normalmente noi facciamo per un esame dove andiamo a spezzettare i test su più classe è normalmente una classe di test per ogni requisito e poi all'interno di ogni di ogni classe diversi test diversi metodi di test ok allora tolgo questo vado a commentare questo assertico che avevo messo come esempio e riesego i test e torno ad avere la barra verde ok nella pratica di programmazione quotidiana non in questo corso ma nella pratica di programmazione diciamo in un contesto di un vero progetto l'idea è di avere un insieme di test che io posso eseguire spesso e volentieri e che sostanzialmente dovrebbero sempre darmi una barra verde ok se ho una barra rossa vuol dire che c'è qualcosa da correggere o da aggiungere o da sistemare e quindi lo aggiungo lo correggo rieseguo i test e sperabilmente ottengo il verde il verde vuol dire va bene il mio test il mio codice fa quello che mi aspetto ovviamente devo aver scritto dei test in maniera ragionevole altrimenti sono inutili però mi danno un grosso aiuto nell'andare a avere un buon livello di confidenza nel fatto che i miei i miei classi i miei metodi funzionino correttamente ne riparleremo poi parlando di test più avanti nel corso ma in generale ricordatevi che avere una barra verde non è la garanzia che il mio programma funzioni correttamente ok viceversa avere la barra rossa è avere la sicurezza che il mio programma non funziona correttamente quindi l'unica cosa che posso dedurre dall'avere una barra verde è che ho una maggiore probabilità che il mio programma effettivamente sia corretto non posso ed è impossibile averne la certezza più testrivo e più la barra resta verde più è probabile che il mio programma sia corretto a questo punto veniamo a vedere un caso particolare e veniamo a vedere perché io la volta scorsa vi stavo raccomandando vi ho detto più volte di non utilizzare se non in casi ben specifici e molto verificati degli attributi statici ok andiamo a vedere la nostra lista di interi abbiamo il nostro nodo testa e il nostro conteggio ok io qui potrei sintaticamente funziona tutto direi che questi sono due attributi statici ok funziona tutto benissimo qual è il problema se io metto quegli attributi come statici pensate a come vengono eseguiti i test abbiamo un singleton no non abbiamo un singleton perché un singleton vuol dire che io posso distanziare un'unica classe un unico oggetto di lista intera invece un singleton prevede che io non abbia la possibilità di distanziare più liste intera in questo caso io posso tranquillamente distanziare quante liste voglio valgono per l'intera classe e quindi hanno un valore condiviso esatto perdiamo il controllo degli attributi dipende cosa vuol dire indica il conteggio di nodi di tutte le liste sì allora attenzione sul conteggio è un pochettino più complicato ma sono comuni a tutte le istanze cosa vuol dire in termini di teste vuol dire che la prima lista di interi che io vado a costruire benissimo il problema è che quando costruisco delle altre liste di interi queste poi vanno a interferire con quelle precedenti ok quindi immaginiamo di togliere questo costruttore che tanto comunque era ridondante esattamente allora a un certo punto era tutte le liste che creo sono concatenate una dopo l'altra essendo la testa comune esattamente o se lascio il costruttore vuol dire che quando creo una nuova lista quelle precedenti me le perdo e quindi se io faccio così e vado a seguire i miei test ottengo degli errori ad esempio lista un elemento dice mi aspettavo uno ma ho ottenuto quattro ok quindi vuol dire che perché perché quando vado a gestire quella lista in realtà qualcuno mi ha già aggiunto degli elementi e dipende molto dall'ordine con cui vado in serie vado a definire questi metodi la lista vuota mi è andata bene perché parto da zero e il primo metodo che eseguo è zero il conteggio però se io ho la lista vuota invece di metterla qui la metto per dire in fondo adesso non ricordo se JUnit me li fa in ordine di dichiarazione ma mi pare di sì no me li mette me li fa sempre nello stesso ordine ok però sostanzialmente ho un un errore perché qui mi aspettavo uno ma ho ottenuto quattro perché le liste create precedentemente erano già piene quindi l'uso degli static mi va a interferire commento in chat in setup dovrei inizializzare gli attributi statici sì e no nel senso che essendo attributi statici privati della lista non ha senso inizializzarli è la lista la classe lista che deve gestire l'inizializzazione in maniera corretta e se nella classe lista io ho definito questi come attributi statici ho sbagliato tutto ok perché quello che viene eseguito in un test poi resta a disposizione in test successivi invece di crearmi una lista nuova completamente distinta da quelle precedenti quindi attenzione a non utilizzare attributi statici a meno che non sia strettamente necessario domanda ma avendo queste inizializzazioni non funziona e attenzione se io questi li metto come statici l'inizializzazione viene fatta una volta sola quando la classe viene caricata non ogni volta che crea un oggetto e quindi se metto static qui l'uguale a null viene fatto una volta al caricamento della classe e quindi una volta sola per la prima per il primo oggetto di tipo lista va bene perché ho caricato la classe creo l'oggetto lista e quindi l'inizializzazione è stata fatta per il secondo mi ritrovo che cosa mi ritrovo gli stessi attributi che però non sono più inizializzati perché ormai l'inizializzazione l'ho fatta al caricamento della classe e via di questo passo domanda perché viene affittato prima il test a tre elementi di quello a uno bella domanda perché l'ordinamento dei metodi è un po' casuale domanda se invece metto le inizializzazioni nel costruttore allora se metto le inizializzazioni nel costruttore i test passano ma è un errore comunque allora così funziona se io qui metto static qui metto static e rimetto questo costruttore i test passano ma sostanzialmente perché io sto testando un oggetto per volta quelli precedenti io me li sono persi per cui se io faccio test public void test liste multiple e vado a creare un'altra lista quindi lista interi l2 uguale new lista interi e faccio diciamo così l.add 1 l2.add 2 e l.add 3 cosa ottengo? mi aspetterei se fossero delle liste indipendenti di avere assert equals 1 virgola l2 punto quanti e di avere anche assert equals 2 come elemento che sta in cima alla lista alla testa della lista l2 se lo eseguo ovviamente mi aspettavo uno qui ma invece ho ottenuto due perché andando a operare sulle stesse variabili salta tutto ok quindi conclusione non utilizzate attributi statici lo ripeto anche per chi magari rivede la lezione successivamente non utilizzate attributi statici a meno che abbiate una motivazione molto molto forte ad esempio dovete implementare un singleton negli esami non dovrete implementare dei singleton quindi se utilizzate gli attributi statici andate incontro a dei guai con il costruttore statico con il costruttore scusate andavano bene i primi tre metodi di test perché sostanzialmente ogni volta costruisco una lista e poi utilizzo solo quella ok e il costruttore inizializza tutto il problema c'è quando vado in questo caso a utilizzare due liste contemporaneamente anche in questo caso anche il costruttore statico scusate anche il costruttore che inizializza tutto non funziona allora domanda ok visto che stiamo parlando di static su il fatto che io posso mettere final allora attenzione non utilizzate attributi statici non vuol dire che non dovete andare a utilizzare se volete mettere delle costanti un ad esempio private static final int numero uguale 5 ok questo è un'altra cosa questa è una costante essendo final non mi importa che sia statico anzi meglio perché viene utilizzato una volta sola ma tanto non lo cambia nessuno ok quindi benissimo la domanda che leggo in chat di Gabriele è nel caso di final si dice che se non ho questo ma ho un riferimento ok quindi invece di avere questo ho un private static final nodo mettiamo il nodo che così abbiamo la classica pronta nodo nodo costante adesso qui mi da un errore perché devo fare un new nodo 0,0 devo inizializzare una costante altrimenti non può esistere la domanda è ma questo final cosa vuol dire? nelle slide c'è scritto correttamente che vuol dire che questo riferimento non può essere modificato ma cosa diciamo dell'oggetto puntato da questo riferimento? Sull'oggetto puntato non si dice nulla nel senso che qui invece di avere lista di interi che inizializza il conteggio potrei avere nodo costante punto valore diciamo set valore a numero ok oppure potrei andare a incrementare dicendo nodo costante punto get valore più 1 e ogni volta che creo un oggetto della lista di interi vado dentro quel nodo lì costante e incremento l'attributo valore non chiedetemi cosa serve perché non serve a niente una stupidaggine ma giusto come esempio quindi il contenuto di un oggetto puntato da un riferimento dichiarato final non è costante ok è costante soltanto riferimento per questo motivo tendenzialmente io vado a dichiarare come costanti o dei valori primitivi oppure degli oggetti di tipo imbutabile in modo che effettivamente sia costante non soltanto il riferimento ma anche l'oggetto puntato allora domanda ci sono temi di esami in cui devo memorizzare il numero di oggetti di una certa classe in quel caso potrebbe essere utile avere un static int count allora dipende da come è scritto il testo andiamo a prendere il tema d'esame vostro oppure meglio ancora per non andare a confondere le idee andiamo a prendere le vaccinazioni che abbiamo visto in una lezione precedente vi ricordate che c'era una classe sistema vaccinale torno un attimo su così vediamo c'era questa classe sistema vaccinale che aveva dei riferimenti ai cittadini e ai centri vaccinali se il sistema mi chiede di tenere traccia del numero di cittadini per ogni sistema vaccinale cosa vuol dire? vuol dire che dentro la classe sistema vaccinale dovrà avere un contatore questo sostanzialmente c'è già che mi dice quanti cittadini ci sono in modo che se io creo due oggetti tipo sistema vaccinale ciascuno mantenga il proprio conteggio se io quel numero cittadini l'avessi messo come attributo statico allora mi ritroverei con due classi sistema vaccinale che utilizzano lo stesso contatore questo è il caso più comune nei temi di esame ovvero non il numero assoluto di cittadini ma il numero di cittadini per un certo sistema vaccinale e quindi in quel caso non utilizzo uno static ma utilizzo un private all'interno del contenitore più esterno domanda essendo final torniamo alla nostra lista di interi ok allora final si riferisce esclusivamente al riferimento ok non a quello che è puntato dal riferimento vuol dire che io non posso cambiare nodo costante in modo che punti a un altro oggetto però il final non mi dice nulla su il contenuto del mio nodo ok teoricamente io vorrei poter scrivere un final qua ok nel senso che è finale non soltanto riferimento ma anche l'oggetto quindi sull'oggetto non posso fare nulla in realtà vedete che dice qui final non lo posso mettere ok quindi non funziona in questo modo domanda un pool di oggetti di una certa classe sì ecco in quel caso lì un pool di oggetti ragionevolmente deve essere statico tenete conto che i pool di oggetti di solito si utilizzano in casi molto particolari e spesso quando sono oggetti immutabili quindi a questo punto se sono oggetti immutabili immaginate le stringhe immaginate il value of dell'integer il fatto che venga usato lo stesso oggetto non è un problema perché tanto è immutabile quindi non ci posso fare nulla non è che due contenitori lo vanno a modificare in maniera diversa ok quindi la raccomandazione non evitare utilizzare statiche in assoluto perché sarebbe una cosa stupida ma in generale partite dall'assunzione che lo statiche non serve nei temi di esame praticamente non serve mai salvo nei casi in cui abbiate bisogno di una costante allora static final sì ma gli attributi statici normali tendenzialmente negli esami non servono anche perché rischiate di avere dei problemi nei test e quindi pensate anche in ottica di test anche al di fuori di un esame quando voi dovete andare a testare una classe pensate che dovete essere in grado di fare dei test e i vari test separati potrebbero interferire l'uno con l'altro quindi cercate di ragionare anche in termini di test che possono essere eseguiti quindi fare la classe in modo che possa essere facile eseguire un test senza particolari problemi ok quindi diciamo che siamo tornati sullo static perché la volta scorsa avevo detto non utilizzatelo adesso spero che sia chiaro per tutti il motivo il motivo è che può interferire con i test e poi darmi dei risultati che non sono corretti esattamente come in C voi i puntatori li utilizzate il meno possibile perché danno dei problemi ecco qui anche lo static utilizzato il meno possibile possibilmente mai ok non so se ci sono altre domande su questo ok non vedo altre domande ovviamente ce ne sono come al solito Slack è il posto dove farle se vi vengono dei dubbi rivedendo questo quanto abbiamo fatto allora approfitto di questi ultimi minuti che abbiamo della lezione di oggi per introdurvi invece il prossimo argomento prima del prossimo argomento riepito cosa succederà prossimamente relativamente a test e quant'altro tendenzialmente voi avete tempo fino a questa sera per eventualmente completare gli esercizi del laboratorio la settimana scorsa e fare un commit sul vostro reposito di personale se ne avete già fatti non importa conta l'ultimo che avete fatto tra questa serie e domani verranno eseguiti in automatico i test sui vostri programmi per chi ha fatto il commit ovviamente se non avete fatto il commit non verrà eseguito nessun test verranno eseguiti in automatico i test e riceverete un'email con l'esito dei test e un puntatore un URL a i test stessi c'è un link nell'email che vi spiega come utilizzare i test e quindi avete la possibilità di eseguire i test anche nel vostro eclipse a casa mercoledì avrete il prossimo laboratorio il prossimo laboratorio è sostanzialmente un'estensione di quello precedente quindi vi ritroverete all'interno del vostro reposito in particolare nello stesso progetto university che avete già visto dei nuovi requisiti e delle nuove classi in aggiunta a quelle che avete già fatto quindi l'idea è di andare a poi estendere quello che avete fatto mercoledì nella prima parte della lezione ci sarà una parte di soluzione del laboratorio della settimana scorsa quindi avrete il modo di andare a vedere tutti i dettagli e discutere confrontare le soluzioni chiedere dubbi e nella seconda parte del laboratorio invece ci sarà la presentazione della nuova versione estesa ok lunedì prossimo di nuovo per chi avrà fatto il commit verranno eseguiti i test e verranno mandati i risultati ok quindi tutte le settimane tendenzialmente adesso al momento di tutte le settimane poi verso la fine del corso direderemo un po' però verranno mandati i test verranno eseguiti i risultati dei test e voi potete risolvere eventuali problemi a casa ok prossimo argomento che trattiamo è l'ereditarietà a cosa serve l'ereditarietà l'ereditarietà serve perché molto spesso noi abbiamo una classe già esistente e ne vogliamo aggiungere un'altra che è tutto sommato simile a quella precedente ma ha qualche piccola differenza possiamo fare questa operazione senza dover riscrivere o fare un copia e incolla di tutto utilizzando per l'appunto dell'ereditarietà la nuova classe che è eredita da quella precedente sostanzialmente è come se contenesse tutti gli elementi della classe di base e in più avesse alcune nuove elementi alcuni nuovi elementi quindi può aggiungere nuovi elementi attributi o metodi e può eventualmente andare a ridefinire degli elementi che già esistevano nella classe di base ok l'unica cosa che non si può fare con l'ereditarietà è andare a togliere qualcosa ok quindi è un qualcosa che accumula e aggiunge eventualmente ridefinisce ok maschera quello che c'era prima e lo ridefinisce in maniera diversa aggiunta vediamo in questo esempio abbiamo una classe di base che si chiama employee ok questa classe di base ha due metodi scusate due attributi che sono nome e stipendio name and wage e un metodo che si chiama increment wage che permette di andare possiamo intuirlo a incrementare lo stipendio esiste poi una classe manager che eredita dalla classe employee e in java questo si fa utilizzando questa parola chiave extends quindi manager extends employee significa che manager è una copia di employee e in più aggiunge questi due elementi ovvero un attributo che si chiama managed unit e un metodo che si chiama change unit per cui quando io creo un oggetto di tipo manager su di esso posso chiamare il metodo increment wage perché quel metodo è ereditato da employee quindi pur non essendo scritto qui dentro dentro la classe manager esplicitamente il metodo increment wage quel metodo è ereditato dalla classe di base quindi manager è una sottoclasse di employee esattamente quando parliamo di sottoclassi intendiamo classi che sono legate dall'ereditarietà quindi manager extends employee significa che manager è una sottoclasse di employee detto in altri termini è una classe derivata da employee quindi sia sottoclasse che classe derivata sono due modi di dire sostanzialmente analoghi un altro modo di dirlo è che manager è un caso particolare di employee un'altra cosa che io posso fare oltre ad aggiungere come abbiamo fatto in questo caso è andare a ridefinire ridefinire nei linguaggi ed oggetti si chiama fare un'operazione che è detta override quindi vado a sovrascrivere se vogliamo quanto esiste già in una classe di base per cui esempio abbiamo la classe employee con il nome e un metodo che si chiama print il metodo print nella classe employee stampa semplicemente il nome e poi la classe manager che estende employee con un attributo aggiuntivo che si chiama manage unit e che cosa fa il metodo print della classe manager oltre a stampare il nome stampa anche virgola managers e il nome dell'unità i due metodi public void print senza parametri e public void print senza parametri sostanzialmente sono dichiarati nello stesso modo solo che quello nella classe manager ridefinisce quello che c'era già nella classe di base quindi ogni sottoclasse ogni classe derivata potenzialmente può andare a ridefinire i metodi che stanno nella classe di base attenzione l'override funziona esclusivamente con i metodi e presuppone che i metodi siano dichiarati esattamente allo stesso modo cioè stessa visibilità stesso tipo di ritorno e stessi parametri oltre ovviamente lo stesso nome ok l'ereditarietà è legata a quello che si chiama una generalizzazione quindi io posso avere l'ereditarietà in UML si indica con questa freccia verso l'alto ok quindi un manager estende employee e un CEO estende manager quindi quando vi dico che manager è un caso particolare di employee significa che possiamo immaginare ricordate quando abbiamo parlato di classi e di insiemi che la classe manager sia una sottoclasse ovvero gli oggetti stiano in un sotto insieme dell'insieme che corrisponde a employee e CEO è ancora un sotto sotto insieme un aspetto fondamentale dell'ereditarietà è che mi permette di sfruttare un meccanismo molto potente che è quello del polimorfismo e legato a questo c'è quello che si chiama il dynamic binding il polimorfismo sostanzialmente mi dice questo che quando ho un riferimento di tipo T quel riferimento può puntare a un oggetto di tipo T ovviamente ma anche a un oggetto di tipo S se S è una sottoclasse di T abbandonando i nomi S e T abbiamo visto che manager è una sottoclasse di employee quindi quando io ho un riferimento E di tipo employee questo riferimento può puntare sia a un oggetto employee come abbiamo visto dalle prime lezioni ma anche a un oggetto di tipo manager quindi il riferimento E in questo caso si dice che è polimorfico nel senso che può puntare a oggetti di tipo diverso purché ovviamente questi oggetti appartengono a classi che sono legate da ereditarietà e quindi tornando al nostro diagramma di insiemi un manager in termini di riferimento è un qualcosa che tranquillamente appartiene all'insieme degli impiegati quindi un riferimento di tipo employee può tranquillamente puntare anche a un oggetto di tipo manager non è vero il viceversa ok se in un riferimento di tipo manager non è detto che possa puntare a un qualunque impiegato ok perché manager è più specifico più dettagliato e quindi alcuni employee sono dei manager ma non è vero che tutti i manager siano employee ok quindi il polimorfismo mi dà questa grossa flessibilità in termini di posso utilizzare un riferimento di una classe base più generale per puntare a oggetti di classi derivate più specifiche questo polimorfismo io lo posso applicare anche a un caso un po' più generale domanda se io ho riferimenti di tipo employee a un oggetto manager posso chiamare i metodi di manager no adesso ci siamo adesso ci arriviamo il polimorfismo mi permette ad esempio di avere un array di employee in cui i vari riferimenti non sono tutti employee ma sono ad esempio manager per cui se ho l'array di team un oggetto è manager e gli altri sono employee quindi capite che questo è un meccanismo che è molto potente perché mi permette di andare a trattare in maniera uniforme oggetti di tipo diverso manager ed employee purché siano legati alla realitarietà ovviamente però è già una flessibilità in più come funziona il polimorfismo al polimorfismo è legato quello che si chiama un controllo dei tipi il compilatore sostanzialmente si comporta in questo modo immaginiamo di prendere il nostro array di team e di avere un ciclo for each che scandisce tutti gli elementi sul del nostro team e su ciascuno di essi chiama il metodo print quindi stampa tutti gli elementi di un certo array ok in fase di controllo il compilatore che cosa fa prende it it è di tipo employee ok trova it.print e quindi verifica che all'interno della classe del riferimento esista un metodo print io qui posso chiamare utilizzando it e di tipo employee soltanto metodi definiti nella classe employee attenzione che questo controllo è stato fatto dal compilatore il compilatore se guarda questo codice che stiamo guardando noi non sa se in team ci sono soltanto oggetti di tipo employee o ci sono anche oggetti di tipo manager o di tipo io ok quindi controllo statico dei tipi il linguaggio java è un linguaggio strongly typed quindi deve garantire il compilatore che quell'invocazione sia corretta l'unico modo di farlo è dire ho un riferimento di tipo employee permetto di chiamare soltanto metodi definiti dentro la classe employee ok quindi cosa fa il compilatore i team è di tipo employee nella classe employee è definito di un metodo print sì perfetto questo metodo è corretto cosa succede a runtime ovvero in fase di esecuzione in fase di esecuzione durante l'esecuzione di questo ciclo la virtual machine scoprirà che alcuni oggetti effettivamente sono di tipo employee e quindi la cosa è lineare ho un riferimento di tipo employee chiamo un metodo definito in quella classe benissimo ma in altri casi ho degli oggetti che non sono di tipo employee ma sono di oggetti di una classe derivata una sottoclasse come si comporta in questi casi la virtual machine abbiamo visto che il metodo print è stato ridefinito in due modi c'è una definizione che è quella nella classe employee e un'altra definizione override nella classe manager quindi quando andrà a scandire il nostro array team quando trova un oggetto di tipo manager quale variante andrà a chiamare quella che stampa semplicemente il nome oppure quella aspettate che recupero la ridefinizione oppure quella che vediamo qui sotto dentro manager che stampa oltre al nome anche l'unità gestita a intuito voi cosa direste nome basta tutte e due ok avrei dovuto fare un sondaggio ma allora diciamo che in base alle vostre risposte finora la maggioranza è per tutte e due c'è un dipende che comunque come risposta va sempre bene e qualcuno in meno per la versione base di employee la domanda effettivamente che conta è l'ultima che c'è nella chat di Alessio che dice la virtual machine è in grado di capire a quale classe appartiene effettivamente l'oggetto ecco la risposta a quest'ultima domanda è sì la java virtual machine ha un riferimento che è di tipo employee ma una volta che va a vedere l'oggetto effettivamente puntato è in grado di sapere che quell'oggetto è un semplice employee oppure è un manager e questo punto a questo punto entra in funzione un meccanismo che è legato al polimorfismo che si chiama dynamic binding come funziona il dynamic binding va sostanzialmente a distinguere tra quello che è il nome del messaggio e quelli che sono i veri metodi delle implementazioni cosa fa il nostro la nostra virtual machine quando trova quando trova quell'invocazione allora ha la garanzia da parte del compilatore che quel metodo lì sia corretto quindi la virtual machine cosa fa prende il riferimento IT che potrà puntare di volta in volta a un employee oppure a un manager scopre che in una certa iterazione se andiamo a vedere la dichiarazione di prima nella prima iterazione IT in realtà punta a che cosa non a un employee ma a un manager ok è corretto il polimorfismo ci consente di farlo quindi scopre che in una certa iterazione il nostro riferimento punta a un oggetto di tipo manager il metodo che ci stiamo cercando di chiamare si chiama print e quindi la domanda che si fa è nella classe manager che è la classe effettiva dell'oggetto esiste un metodo print come quello che vogliamo invocare se la risposta è sì chiama quel metodo se la risposta è no va a vedere nella classe di base quindi la manager sale su a employee e va a verificare se in employee esiste un metodo definito come quello che vogliamo chiamare se esiste lo esegue altrimenti va ancora su ok il controllo del compilatore che dice che dentro employee esiste un metodo che si chiama print garantisce che questa sequenza di passaggi da una classe derivata alla classe di base a un certo punto termine quindi la classe che corrisponde alla classe del riferimento effettivamente contiene quel metodo e quindi la nostra java virtual machine è in grado di chiamarlo quindi il dynamic binding sostanzialmente ci consente di fare quello che intuitivamente insomma buona parte di voi sembrava la soluzione più ragionevole ovvero che quando faccio i t.print quel print stampi per i manager il nome e l'unità per gli impiegati semplicemente il nome allora io qui l'ho chiamato messaggio nel senso che mando un messaggio che si chiama print all'oggetto l'oggetto interpreta questo messaggio in base a come è definito nel suo metodo quindi se volete la chiamata è un messaggio l'oggetto che lo riceve interpreta quel messaggio e traduce il messaggio nell'esecuzione di un metodo e quindi posso andare a distinguere tra quello che è il messaggio inviato a un oggetto e quella che è l'esecuzione effettiva di un metodo il meccanismo di dynamic binding che vi ho appena descritto sostanzialmente mi permette di andare a ottenere questo risultato se invece di avere print qui avessi avuto il metodo increment wage che non è definito dentro manager sostanzialmente tutte le volte la java virtual machine trovandosi di fronte a un manager avrebbe verificato che dentro la classe manager il metodo increment wage non è definito e quindi avrebbe eseguito quello definito nella classe di base employee per il metodo print invece essendo stato ridefinito dentro la classe manager se l'oggetto puntato è manager esegue il print manager se l'oggetto puntato è employee esegue il metodo print di employee quindi il dynamic binding unito al poemorofismo mi consente di andare a scrivere dei del codice come questo che sostanzialmente opera su riferimenti diciamo più generali employee più generale di manager e sostanzialmente permette di andare ad eseguire invece del codice più specifico che varia di volta in volta in base alla classe effettiva dell'oggetto puntato domanda se avessi un vettore di employee che contiene solo manager e nel ciclo invoco un metodo contenuto solo in manager il compilatore mi segnala un errore esattamente quindi se io ho un riferimento di tipo employee e cerco di utilizzarlo per chiamare un metodo di manager il compilatore mi segnala un errore perché il compilatore non sa che cosa c'è effettivamente dentro quel riferimento e quindi per stare sul sicuro mi dice no non lo puoi fare attenzione attenzione questo è un tipo di controllo che viene fatto esclusivamente nei linguaggi fortemente tipizzati come ad esempio java in altri linguaggi questo controllo non viene fatto dal compilatore viene fatto poi un controllo a runtime ovvero va a verificare che effettivamente l'oggetto o una delle sue classi di base perché può essere una cosa a più livelli effettivamente contenga quel metodo se non lo contiene viene generato un errore runtime linguaggi non fortemente tipizzati so javascript piuttosto che python non hanno questo controllo in fase di compilazione ma mettono in atto il meccanismo di dynamic binding che ovviamente potrebbe darmi un errore in fase di esecuzione mentre invece in java avendo un controllo di tipi il dynamic binding funziona sicuramente in fase di esecuzione quindi esattamente il compilatore sostanzialmente verifica che se IT è di tipo employee employee contenga questo metodo quindi visto che il dynamic binding parte dalle classi più specifiche mi garantisce che risalendo classe dopo classe quindi qui ho manager ma nell'esempio che avevamo visto prima vi avevo citato anche come esempio la classe CEO quindi immaginiamo di avere un riferimento di tipo CEO il dynamic binding cosa fa? va a vedere se il metodo è definito in CEO se non lo trova va a vedere dentro manager se non lo trova va a vedere dentro employee a un certo punto a forza di risalire da classe derivata a classe di base raggiungo la classe che corrisponde al tipo del riferimento lì il compilatore mi garantisce che esista il metodo e quindi mi garantisce che il meccanismo del dynamic binding mi permetta di avere la possibilità a runtime di chiamare un metodo ok? quindi quando io ho questo tipo di meccanismo ho la garanzia che vada tutto a buon fine ok? nel vostro prossimo laboratorio voi vi ritroverete una classe che estende la classe di university quindi avrà tutti i metodi che ci sono già in university più altri che voi dovrete andare a implementare domanda se si chiamasse un metodo su un manager questo non verrebbe cercato in CEO allora dipende dal tipo di di riferimento che stai utilizzando ho visto una mano alzata per un attimo se c'è una domanda prego allora domanda se se un riferimento di tipo employee è l'oggetto puntato di tipo CEO la virtual machine inizia da CEO a vedere se esiste quel particolare metodo non lo trova sale a manager lo trova in manager e quindi lo chiama lì quindi sostanzialmente questo tipo di chiamata quello codice che stiamo vedendo adesso non sa nulla di manager di CEO o di altre classi mi dice che anche una classe che io voglia definire domani quindi non c'è non esiste nel momento in cui scrivo questo codice che estenda employee potrà tranquillamente funzionare perché le regole dell'ereditarietà mi garantiscono che se qui a employee io sostituisco una qualunque classe che è eredita da employee automaticamente quella classe potrà andare a finire lì ok è quello che si chiama il principio di sostituibilità ovvero potrò tranquillamente andare a sostituire a un oggetto di tipo T un oggetto di tipo S se S è eredita da T domanda quindi se io ho un oggetto manager la virtual machine eseguirà sempre la print che si trova dentro manager e non quella in employee esattamente perché se io ho creato una classe manager e ho deciso che il metodo print che c'era nella classe di base non va bene per me io che ho generato la classe manager decido che verrà eseguito quello e non un altro l'importante è giustamente che il metodo esista nella classe di riferimento ovvero la classe del riferimento domanda posso fare due sottoclassi che hanno non eredità tra loro ma sono sottoclassi della stessa classe sì certo io vi ho fatto l'esempio di un'unica sequenza di ereditarietà ovviamente io posso andare a costruire delle alberi di ereditarietà come questi ok quindi ho la classe specie vivente che da cui ereditano vegetale animale e poi ho scusate vegetale animale animale o essere umano venditore cliente venditore di fiori eccetera se io ho un riferimento a specie vivente potrò chiamare i metodi definiti in specie vivente indipendentemente dal fatto che il riferimento punti a un venditore di fiori oppure un fiore domanda quindi se io ho un riferimento di tipo manager il riferimento può puntare a un oggetto di tipo CEO a un oggetto di tipo manager ma non un oggetto di tipo employee esatto perché ovviamente io a manager posso sostituire soltanto qualcosa di più specifico non qualcosa di più generale ok quindi ereditarietà polimorfismo e dynamic binding sono gli elementi fondamentali che permettono di avere una flessibilità enorme nell'andare a costruire le classi ok ovviamente ho anche la possibilità di andare a fare delle conversioni forzare delle conversioni ok e ovviamente avrò delle regole di visibilità leggermente da aggiornare rispetto a quelle di base che abbiamo visto per quanto riguarda l'ereditarietà quindi una classe derivata riesce a vedere tutto quello della classe di base oppure no ok è una redazione particolare ok non sono magari nello stesso package o sono in package diversi quali sono le regole di visibilità quindi anche lì dovrò andare un po' ad aggiornare tutto dovrò andare a capire come si comportano i costruttori nel caso di classi derivate quindi il costruttore della classe derivata deve andare a costruire anche quelli della classe di base oppure no ragionevolmente il costruttore della classe di base costruisce la parte che gli compete e il costruttore della classe derivata si occupa di quello che è definito esplicitamente nella propria classe ok e poi ultima anticipazione esiste una classe particolare che si chiama object che è implicitamente classe di base di tutte le classi che io scrivo in java quindi quando io scrivo una classe ma non metto extends implicitamente il compilatore mi dice che extends object quindi capite chiaramente che tramite polimorfismo io posso andare a trattare qualunque classe io definisca in java tramite un riferimento di tipo object ok mi premeva più che altro andare a spiegarvi i meccanismi di polimorfismo e dynamic binding che sono quelli fondamentali vi pubblico una lezione in cui riprendo queste cose in maniera un po' più dettagliata e poi ci torneremo giovedì vedendo alcuni aspetti un po' più particolari direi che con questo possiamo chiudere la lezione odierna ricordatevi mercoledì il prossimo laboratorio e noi ci rivediamo con la lezione di giovedì buona giornata a tutti